Musica Buonasera e bentrovati con l'appuntamento dell'informazione del Tg Max. C'è ancora la tragedia di Vasto in primo piano. Presenza di gas nei vasi sanguigni dei tre capodogli morti ieri arenati a punta a Derci, probabile conseguenza di una riemersione troppo rapida. Secondo l'esperto Olivieri del centro studi Cetacei, la causa potrebbe essere un trauma improvviso come quelli provocati dalle attività di prospezione con tecnica Airgun. Cominciata a Vasto la necroscopia sui tre capodogli morti ieri sulla spiaggia di Punta Penna nella riserva di Punta a Derci, l'ispezione interna ed esterna viene condotta nello stesso tratto di spiaggia in cui si sono arenati sette Cetacei, quattro dei quali sono riusciti a riguadagnare il mare grazie all'aiuto della Guardia Costiera e di tanti volontari. Per tutta la notte la zona interdetta all'ingresso è stata sorvegliata dai volontari del gruppo comunale della protezione civile a coordinare la necroscopia il professor Sandro Mazzariol del CERT dell'Università di Padova, affiancato da esperti della stessa università, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale d'Abruzzo e Molise e del centro studi Cetacei Onlus. I tre capodogli che non ce l'hanno fatta sono femmine, una delle quali incinta, una notizia sensazionale anche dal punto di vista della ricerca scientifica, ha detto Vincenzo Livieri, presidente del centro studi Cetacei Onlus. L'equip ha estratto un feto di 4-5 mesi, sarà destinato al Museo del Mare di Pescara. Le prime analisi, ha aggiunto Livieri, hanno evidenziato la presenza di gas nei vasi sanguigni dei tre capodogli morti, probabile conseguenza di una riemersione troppo rapida, la cui causa potrebbe essere un trauma improvviso come quelli provocati dalle attività di prospezione con tecnica Airgun. Vuol dire che quanto accaduto, spiega ancora Livieri, potrebbe essere messo in correlazione con le attività di ricerca petrolifera. Tecniche come l'Airgun producono infatti un rumore fortissimo che spaventa e disorienta i capodogli. Questo trauma porta Cetacei a una riemersione troppo rapida, la cui conseguenza è la permanenza di gas nei vasi sanguigni. Una situazione, aggiunge Livieri, molto simile a ciò che accade ai sub colpiti da embolia in seguito a una mancata decompressione. I quattro capodogli che sono riusciti a salvarsi si sono diretti a nord. Gli ultimi avvistamenti erano stati fatti sulle coste croate. È probabile, spiega il professor Mazzariol, che cambino direzione anche perché la loro vita si svolge in fondali profondi come sulle coste greche. Al termine della necroscopia, le carcasse dei tre Cetacei saranno smaltite dal servizio veterinario dell'ASL e sepolte in un terreno già individuato dal comune di Vasto. È stata sequestrata una casa albergo abusiva nel Pescarese che ospitava persone anziane anche non autosufficienti. I carabinieri del NAS hanno anche denunciato il responsabile legale per abusivo esercizio di una professione e mancanza della prescritta autorizzazione. Una casa albergo di fatto abusiva nella quale erano ospitate persone anziane anche non autosufficienti è stata sequestrata nel Pescarese dai carabinieri del NAS. I militari dell'arma hanno anche denunciato il responsabile legale per abusivo esercizio di una professione e mancanza della prescritta autorizzazione. Il decreto di sequestro preventivo è del GIP del Tribunale di Pescara. La notizia è stata data dal nuovo comandante del nucleo antisofisticazioni di Pescara che ha competenza su base regionale il capitano Domenico Candelli insediato sia al posto del colonnello Marcello Sciarappa. La struttura sequestrata dai NAS non aveva autorizzazione e non garantiva agli 11 ospiti la prevista ed adeguata cura ed assistenza medica e sanitaria tanto da metterli in una situazione di potenziale pericolo. Il provvedimento cautelare è stato eseguito con la collaborazione dei servizi della ASL di Pescara e della Compagnia Carabinieri di Popoli. I controlli risalgono ad agosto. Gli 11 ospiti sono stati trasferiti con la collaborazione di personale della ASL di Pescara e dei familiari in strutture sanitarie edonee. I controlli si sono estesi anche nella provincia di L'Aquila dove è stata ispezionata un'altra struttura ricettiva per anziani all'interno della quale gli ispettori hanno riscontrato gravi carenze strutturali. Il sindaco del comune ha disposto alla sospensione dell'attività e il trasferimento degli ospiti in una terza struttura ricettiva per tutta la durata dei lavori di intervento straordinario. Il capitano Candelli, 44 anni, originario di Taranto, arriva dalla Compagnia dei Carabinieri di Civitanova Marche dove è stato comandante per quasi dieci anni. Arriva a Pescara, addetto alla stampa, per guidare una squadra composta da 23 validi professionisti con i quali condividere una nuova esperienza attorno ad una materia di grande interesse per la collettività. Denunciato giorni addietro per maltrattamenti alla moglie dalla quale si stava separando, ieri sera l'ha picchiata per l'ennesima volta e per questo è stato arrestato. È finito in carcere un marocchino di 49 anni da tempo domiciliato a Casoli. L'uomo ha aggredito anche i carabinieri intervenuti dopo l'allarme dato dalla donna che per ecchimosi ed escoriazioni è stata ritenuta dai medici guaribile in sette giorni. Prognosi di 3-5 giorni invece per i militari. All'uomo sono stati contestati reati di maltrattamenti in famiglia, violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Incarichi senza concorsi alla ASL di Pescara. La denuncia arriva dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, che presenta una interpellanza sulla situazione e dice che va avanti da dieci anni. Promossi sul campo come succede in guerra, solo che in questo caso ad essere promossi non sono soldati ma infermieri e il campo è rappresentato dalla ASL di Pescara. Nuova denuncia del Movimento 5 Stelle e disperpero di denaro pubblico per oltre 300 mila euro. Secondo il consigliere regionale Domenico Pettinari, da dieci anni primari e dirigenti di reparto affidano incarichi di coordinatori facenti e funzioni, una sorta di vice caposala, ad infermieri di fiducia attraverso un semplice ordine di servizio, commettendo un atto illegittimo in quanto l'incarico andrebbe affidato per concorso. Fino ad oggi gli infermieri promossi sono stati 30 per 30 reparti. Non avendo ricevuto però un adeguamento contrattuale, 21 di loro si sono rivolti al giudice del lavoro, ottenendo l'aumento di 180 euro in più in busta paga come risarcimento danni e indennità di titolo superiore per un importo che supera appunto i 300 mila euro. Un danno era reale enorme, ha rimarcato Pettinari, a fronte del quale i vertici amministrativi della ASL, compreso il dirigente della prevenzione alla corruzione e per la trasparenza, si sono limitati in questi anni solo ad ammonire i primari senza mai avviare procedimenti disciplinari né presentando un esposto alla Corte dei Conti. Di qui l'appello al presidente D'Alfonso ha permesso di intervenire, altrimenti, dice ancora Pettinari, ciò che predica è solo aria fritta. Non deve essere sempre e sole ed esclusivamente la collettività a pagare. Chi ha sbagliato deve pagare. La sanità abruzzese non può essere, la politica non può essere credibile se non mette mano a queste falle nel sistema, a queste emorragie di denaro pubblico. Quindi noi diciamo e invitiamo il presidente D'Alfonso prima a tappare queste falle, a mettere mano a queste emorragie, a sanzionare chi ha sbagliato, altrimenti non sarà mai credibile. Quello che lui dirà, la sua pianificazione, la sua programmazione, sarà solo ed esclusivamente filosofia ed aria fritta. Ma c'è di più. Pettinari, infatti, paventa il rischio di un concorso a posti zero per sanare quanto illegittimamente fatto. Dopo che loro hanno ottenuto il titolo, il risarcimento del danno, tutto il danno che c'è stato anche per le case collettività, facciamo un concorso per sanarli. Ma stiamo scherzando. Questo sarebbe l'ultimo atto di illegittimità sopra le illegittimità già perpetrate. Quindi io mi auguro che si blocchino intanto con questo concorso. Mi auguro almeno questo. Rapina un'ottantenne del portafoglio nei bagni pubblici di Lanciano. Poi si dà la fuga, ma le grida dell'anziano originario di Archie hanno attirato l'attenzione dei passanti che hanno inseguito l'uomo e lo hanno bloccato. È accaduto ieri in piazza D'Amico. La polizia ha arrestato un romeno di 20 anni senza fissa dimora mentre pensionato, come vediamo dalla foto colto da Malore, è stato soccorso dai sanitari del 118. A Pescara, tra un mese, riaprirà il traffico Corso Vittorio Emanuele II. L'annuncio oggi da parte del sindaco Alessandrini e del vice del Vecchio. Corso Vittorio Emanuele a Pescara chiuso al traffico tra Piazza della Rinascita e Via Genova dalla precedente amministrazione per lavori di riqualificazione sarà riaperto a auto e bus ma solo in parte all'incirca tra un mese. A dare notizia del futuro di questa strada sono il sindaco Marco Alessandrini e il suo Vicenzo del Vecchio. Si procederanno spiegato all'istituzione di zona 30 km orari che sarà la velocità massima consentita. sarà ripristinata la percorribilità al traffico ordinario ciclo pedonale ai mezzi di soccorso e al trasporto pubblico locale solo sulla corsia lato mare direzione sud-nord mentre sull'altra corsia lato monte direzione nord-sud passeranno solo i mezzi di soccorso e TPL. Il traffico restante passerà sulla controstrada saranno attivati poi 12 accessi alla zona traffico limitato ci sarà bisogno di qualche settimana di tempo aggiunto il sindaco per realizzare le necessarie opere di segnaletica stradale e di rifunzionalizzazione di alcune strade dove i sensi di marcia sono stati modificati nei mesi scorsi. Noi abbiamo dovuto fra le varie eredità ricevute maneggiare la questione di Corso Vittorio Emanuele e abbiamo ritenuto di agire in questa direzione di riaprire alla viabilità questa arteria cittadina così significativa con un discorso più ampio di viabilità attorno al plesso ferroviario il senso del nostro intervento è il seguente noi in primo luogo abbiamo la necessità di completare ciò che non c'è ovvero la segnaletica stradale e la messa in sicurezza di Corso Vittorio che sarà una strada in cui si potrà andare a 30 km orari per esigenze di sicurezza e anche per andare in qualche modo in linea con le direttive europee poi la Corso Vittorio sarà aperto al traffico pubblico in entrambi i sensi di marcia mentre quello privato sarà in direzione sud-nord oltre a questo però c'è anche naturalmente la necessità come accennavo prima di disegnare o meglio ridisegnare una più ampia e complessiva viabilità attorno al plesso ferroviario l'aria apertura al traffico avverrà in maniera graduale in una prima fase dopo la nuova segnaletica e la realizzazione degli stagli per parcheggi si arriverà all'istituzione della zona 30 sul corso in un secondo momento saranno realizzate le opere finalizzate a sospendere il transito sulla controstrada realizzata sulle aree di risulta e all'adeguamento infrastrutturale della strada adiacente alla stazione ferroviaria sarà anche eliminata la rotatoria all'incrocio con via Teramo e saranno recuperati all'uso 126 posti auto questi interventi costeranno oltre 100.000 euro non previsti nel progetto originario di riqualificazione del corso annunciando le novità il sindaco ha osservato che le scelte dell'aggiunta mascia sono state al buio e forzate nulla chiuso del vecchio vieta in futuro la chiusura nel fine settimana i cani antiveleno del corpo forestale dello stato al lavoro nell'area limitrofa del ritrovamento avvenuto ieri dell'orso morto alla ricerca di eventuali bocconi avvelenati o carcasse di altri animali se fosse confermato l'avvelenamento al momento l'ipotesi più accreditata non essendo state trovate ferite l'associazione italiana difesa animali e ambiente si è detta pronta a pagare una taglia di 50 mila euro a chi aiuterà a rintracciare denunciare far condannare l'avvelenatore il Tg Max termina qui vi ricordo che Tg Servizi e Programmi sono anche sul nostro sito internet tgmax.it ci trovate anche sul nostro canale Youtube e ai profili ufficiali di Twitter e Facebook l'appuntamento con la nostra informazione torna domani puntuale con il settimanale Tg7 nei consueti orari grazie per l'attenzione arrivederci a presto